È ritornato in Australia lunedì il cardinale Pell, dove il 26 luglio dovrà comparire in tribunale a Melbourne per rispondere delle accuse di abusi sessuali nei confronti di minori. Nelle immagini dell'emittente australiana 9 News il momento del suo arrivo all'aeroporto di Sydney da Singapore, ad accoglierlo la sicurezza. Poi è andato via rapidamente a bordo di un'auto bianca. Dal 2014, prefetto agli affari economici del Vaticano, Pell è stato incriminato alla fine di giugno. I fatti contestati risalirebbero agli anni 70, quando era un semplice sacerdote nella sua città natale, nello stato di Victoria. L'ex arcivescovo di Melbourne, Sydney, oggi 76 anni, ha rifiutato categoricamente le accuse. Il Papa gli ha accordato un periodo di congelo per difendersi.